... Qui a Rivarossa è un'esercitazione adestrativa dei gruppi di protezione civile. Di cosa si tratta nello specifico? Allora, nello specifico è una a tre giorni, venerdì, sabato e domenica, dove i volontari si possono iscrivere per applicare le loro specializzazioni. Abbiamo messo in essere dalla cucina alla Croce Rossa italiana che è una tenda fabbia LSD, abbiamo tensostrutture, quindi ci sono logisti che montano e smontano la tensostruttura per mantenere le loro abilitazioni, segreteria di campo, abbiamo messo in essere anche i nostri sommozzatori. Ci sono tutte le specializzazioni immaginabili possibili che la protezione civile deve mantenere per sopperire a qualsiasi emergenza quando è richiesta. Fra queste c'è anche il movimento terra, abbiamo dei bobcat dove volontari vanno a caricare e scaricare terra sui camion e quindi ci sono anche autisti di patente superiore che movimentano i camion. Simuliamo ad esempio la rimozione di una frana come è stata a Bussoleno due mesi fa. Quindi in totale abbiamo messo in essere appunto 26 attività dove si può vedere che sono tutti molto attivi. Un modo anche per testare quelli che sono i risultati dei corsi effettuati? Sì esatto, noi durante l'anno facciamo dei corsi ogni 15 giorni di sabato e sono specialistici per una cosa quindi ci sono ad esempio montaggio tende, si fa un sabato, qua ci sono tutti quanti insieme. Un'altra prerogativa di queste tre giornate è il vivere insieme e fare squadra quindi conoscerci fra volontari che magari non hanno mai lavorato insieme. Però potrebbe capitare in un futuro che ci sia necessità insomma. Quanti sono i gruppi di protezione civile presenti? Posso dire che siamo arrivati alla seconda giornata con oltre 300 registrazioni di volontari. il campo è diviso con gli vari stand, ognuno gestisce un'attività diversa quindi possono essere dei ripassi o addirittura dei corsi come per esempio la legge 81 sulla sicurezza che sono le quattro ore obbligatorie per i volontari. Chi non l'ha ancora fatta e quindi non ha ricevuto l'attestato questa è una delle occasioni per poter arrivare ad avere appunto questo attestato e frequentare questo corso che è obbligatorio. Oltre a questo ovviamente ci sono nodi, imbragature, le motopompe, motoseghe tutto quello che riguarda attività che generalmente si fanno in emergenza o nei vari interventi. È un momento di ripasso anche per chi già l'ha fatto è un momento addestativo anche per gli istruttori perché all'interno dei volontari abbiamo anche degli istruttori e anche per loro occorre ripetere la loro operazione quindi si addestrano anche loro a fare l'istruttore per i volontari. Oltre ad essere questa giornata di formazione comunque è e sempre rimane anche un momento aggregativo e conviviale dove si stringono o si rafforzano amicizie che possono essere utili in emergenza conoscersi e saper lavorare insieme. La scelta è caduta su Riva Rossa, sull'impianto sportivo di Riva Rossa, presumo perché si presta a questo. Sì, in realtà doveva svolgersi inizialmente a Rivara poi per svariati motivi c'erano le condizioni atmosferiche che non ce lo permettevano perché si svolgono generalmente in campi quindi se sono estremamente bagnati sarebbe non agevole ma nello stesso tempo meno male che abbiamo rimandato con l'esercitazione perché abbiamo dovuto affrontare l'intervento a Bussoleno per la frana che c'è stata quindi tutti i mezzi e il coordinamento era impegnato a Bussoleno e quindi abbiamo preso l'occasione eravamo un po' titubanti per il tempo ma mi pare che siamo stati ben assistiti fino ad oggi speriamo anche domani. Per chi vorresse entrare in protezione civile cosa deve fare? Allora, molto semplice la persona va sul sito del coordinamento territoriale di protezione civile ci sono dei numeri di telefono di cui anche il mio quello della segreteria c'è un indirizzo email si deve iscrivere a un'associazione oppure a un gruppo comunale o lo indirizziamo noi certo, è più vicino possibile che non deve fare tanta strada partecipare alle attività del proprio territorio della propria associazione dopodiché se c'è possibilità di crescita per tutti si può entrare a far parte della colonna mobile prima provinciale e poi quella regionale sulla base degli indirizzi che uno ha scelto e sulla base di corsi che si fanno ormai sempre più sovente perché la formazione in casa nostra è la prima cosa soprattutto i volontari devono frottare le emergenze formati non ci sono più volontari che non si va col badile a spalare fango perché questo non avrebbe più nessun senso tra l'altro la legge ormai dice questo sono tutti specializzati e quindi con una certa assicurazione quindi basta iscriversi e partecipare alle attività del gruppo che non ci sono Grazie a tutti